La prima è nata nel 1881, oggi in tutta Italia ce ne sono 6.000. Sono alla base dello sviluppo delle attività turistiche, della valorizzazione e tutela dei prodotti tipici, dell'elogastronomia e dell'artigianato locale. Custodiscono le tradizioni popolari, tutelano e salvaguardano i patrimoni storico-artistici, architettonici, culturali e ambientali dei territori nei quali nascono e operano. Sono le pro-loco, risorse di uomini e donne che mettono a disposizione il proprio tempo per il bene di tutti. Quelle del Salento si sono date appuntamento a Collepasso per fare il punto dell'anno che si è appena concluso e di quello che verrà. Un bilancio positivo che si mira a far crescere soprattutto ora che la stagione più impegnativa per loro è alle porte. È stato un anno intenso e con la stessa intensità dell'anno del 2011 spero e auspico che il 2012 sia ancora molto più forte del 2011. Il presidente dell'UMPLI però lancia un appello preciso ai colleghi che è di fronte. Restiamo uniti altrimenti tutto sarà più difficile. Le grandi pro-loco devono aiutare, le piccole pro-loco e tutte le pro-loco devono spingersi a fare sinergia forte e superare questo momento perché noi stando insieme veramente siamo una forza unica. E allora è questo l'appello che io lancio. Grazie. Grazie.